Quattro istituti scolastici coinvolti, 53 classi partecipanti, mille alunni raggiunti. È il bilancio del primo mese di attività di solo posti in piedi, educare oltre i banchi. Un progetto animato da nove associazioni aquilane, con il sostegno di Comune Università dell'Aquila e Fondazione Labos e selezionato dall'impresa sociale con i bambini, nell'ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. È un progetto che durerà 30 mesi, siamo i primi due mesi di attività. Lavoreremo con le scuole, in stretto contatto con i quattro istituti dell'Aquila, sono tante associazioni. Portiamo diversi linguaggi che fanno cultura, diciamo, all'interno delle scuole, dalla musica, la danza, ma anche robotica e tante altre cose per coinvolgere le famiglie e tutta quella che nel progetto viene chiamata la comunità educante. Questo progetto è finanziato da un'impresa sociale con i bambini, abbiamo partecipato a un bando nazionale con una rete grandissima di associazioni e fortunatamente abbiamo vinto e abbiamo portato quindi all'Aquila questo progetto. Che bilancio possiamo fare di questi primi mesi di attività? Io credo che siano ottimi. L'idea iniziale del progetto era proprio quello di un po' cambiare il punto di vista dei bambini e degli insegnanti rispetto alla scuola. Quindi abbiamo realizzato tantissime incursioni che sono delle piccole lezioni spettacolo, diciamo, che entrano nella classe a sorpresa. I bambini non lo sanno, quindi vengono sorpresi da questa attività, le insegnanti lo sanno ovviamente, le insegnanti vengono coinvolte all'interno dell'attività che proponiamo e facendo imparano e scoprono qualcosa di inaspettato completamente sia all'interno della scuola sia in quella giornata che pensavano magari di fare matematica e si ritrovano a fare circo, robotica, musica, danza, libri. Questo primo bilancio quindi credo che sia molto positivo. Adesso partiranno i laboratori all'interno delle scuole e anche fuori dalle scuole con le botteghe creative e poi ci saranno gli open day. Solo posti in piedi ha come obiettivo finale l'apertura di una ludoteca pubblica nel centro storico della città, un traguardo che giungerà al termine di un percorso partecipato che prevede lezioni in laboratori ludico creativi. Contatteremo anche le famiglie direttamente e con le famiglie nell'anno prossimo si comincerà un percorso partecipato per andare a costruire insieme una ludoteca comunale. Costruire diciamo nel pensiero, in quello che vorremmo che fosse, ma non sarà solo nel pensiero perché il comune a breve ci assegnerà un luogo in cui poterla proprio realizzare e questo sarà possibile tra qualche mese. Le associazioni che partecipano a solo posti in piedi sono Brucaliffo, che è l'associazione capofila, Bibliobus, Coinonia, nati nelle note, Atelier Contemporaneo, Fab Lab L'Aquila, Mubac, Museo dei Bambini L'Aquila, UISP, Comitato Provinciale L'Aquila e Sprit Film. Dal 16 febbraio intanto sono partiti anche i laboratori curati da Fab L'HQ e nati nelle note. Le botteghe creative sono laboratori completamente gratuiti nati per stimolare le creatività e incentivare le abilità di ragazzi e ragazze attraverso attività divertenti e formative anche fuori da scuola. L'organizzazione a cura di Fab Lab L'Aquila è nati nelle note, due delle nuove associazioni che prendono parte a solo posti in piedi. I laboratori sono rivolti a bambine e bambine, ragazzi e ragazzi di varie fasce d'età, da 6 ai 14 anni e proseguiranno sino a maggio.